Sono davvero tante le notizie che vi dobbiamo dare in questo appuntamento. La prima e tra poco sentiremo la testimonianza di un autista della provincia di Reggio Emilia che è stato minacciato con una pistola. Tra poco sentiremo le sue parole. E poi di ieri la notizia che un capotreno è stato aggredito il trener il 2477 di Trenitalia Tiper in viaggio da Milano Centrale a Rimini. Quattro giovani senza biglietto hanno non solo malmenato il capotreno, sono anche riusciti ad entrare in cabina, poi a Reggio Emilia sono scappati. Trenord. Ieri un treno della linea Parma-Brescia è andato a fuoco. Successivamente Trenord ha fatto sapere che non era un incendio. Unica cosa certa è che gli utenti per due ore sono stati in balia di capire quello che succedeva e non è arrivato nessun autobus. Parma su Zara, mattinata difficile, diversi treni in ritardo già dalle prime ore del mattino con inevitabili conseguenze per chi doveva andare a scuola o chi si doveva recare al lavoro. Come abbiamo detto è il momento di ascoltare la testimonianza di un autista che è stato minacciato con una pistola fortunatamente a gommini. Queste sono le sue parole. Sono Otto Grasso e sono un conducente di linea che lavora per la Concord Tour. Niente, lunedì mentre che stavo andando con una corsa a vuoto a Correggio, due ragazzi provenienti dal senso inverso, hanno tirato fuori una pistola e hanno sparato, ma il loro intento è prendermi in viso. Poi alla fine me ne stanno succedendo anche delle altre cose. Anche domenica mi hanno rubato la giacca e due mesi fa sono stato rintracciato fino in deposito perché dice che non mi ero firmato a una fermata minacciandomi di questa.